Sono esposte quattro anfore che provengono dalle acque di Formia, dal porto di Formia. Ci raccontano quelli che erano i commerci che avvenivano nel mare attorno a Formia. È un'occasione importante oggi perché si sottolinea la collaborazione che c'è tra la soprintendenza, in questo caso l'ufficio che si occupa della tutela subacquea, e le forze dell'ordine. Dal mare del sud pontino al palazzo di giustizia di Cassino, in una mostra voluta da procuratore, presidente del tribunale e ordine degli avvocati. È stata inaugurata al termine di una breve cerimonia, in cui è stata sottolineata l'importanza della collaborazione tra le diverse istituzioni. La capitaneria di Formia e di Gaeta ci aveva rappresentato della disponibilità di questi reperti che erano stati ritrovati. Ne ho parlato con la soprintendenza archeologica e, assieme al presidente del tribunale, abbiamo allestito questa esposizione permanente. Oggi congiungeremo formalmente, attraverso questa esposizione delle anfore, il sud pontino al tribunale di Cassino. Il senso vero di questa iniziativa, per la quale ringrazio il procuratore della Repubblica, il dottor De Manuele, è proprio lasciare un segno tangibile dell'entità dell'importanza del nostro tribunale, che non è soltanto Entrotera, non è soltanto Cassino e Sora, ma è anche tutto il Golfo. La vetrata che custodisce questi reperti è nell'atrio del Palazzo di Giustizia. Tanti, quindi, potranno ammirarli ogni giorno. Il nostro territorio è un territorio ricchissimo di un patrimonio artistico, archeologico, storico, molto ricco. Credo sia molto importante che trovi ospitalità in una struttura come il Palazzo di Giustizia, dove può essere fruito da una pluralità di utenze molto bassa, molto ricca. Diversi rappresentanti di istituzioni e forze dell'ordine hanno partecipato alla cerimonia di consegna di questi pezzi di storia, recuperati dal mare, dalla Guardia Costiera. Venire qui negli uffici giudiziari e poter vedere, respirare storia, in questo caso vedere delle anfore che hanno tanti, tanti, tanti anni. Si parla di reperti che risalgono all'epoca romana. La Guardia Costiera, con i propri nuclei sub, col proprio personale, è impegnata ogni giorno per tutelare questi beni archeologici che sono sommersi, per mapparli, per emanare delle ordinanze e quindi regolamentare chi va su con le barche per non ancorare o fare altro che possano distruggere questi pezzi di storia.